Cieli, dice il cristianesimo. E quindi un padre che dà la legge. Uno dei primi gesti fondamentali della divinità è la posizione della legge, il decalogo. Cosa puoi e cosa non puoi fare. Non tutto è possibile. Ci sono delle leggi che chiedono di essere rispettate, che non possono essere in alcun modo trascese. La colpa originaria degli uomini sta proprio per hubris, per traccotanza, nel superare, nel trasgredire le leggi fondamentali, nel volersi sostituire a Dio. L'inganno delle parole suadenti del serpente è proprio questo, mangiare del frutto proibito per avere in cambio la divinità, per sostituirsi a Dio. Ma non ci si può sostituire a Dio proprio perché c'è una conoscenza fondamentale della natura finita dell'uomo. Noi siamo finiti e cerchiamo l'infinito nella misura in cui avvertiamo la nostra finitudine. I greci avevano in qualche modo anticipato, anche sotto questo profilo, il grande insegnamento del cristianesimo. Quando nell'Agamennone di Eschilo Zeus dice testualmente che il grande insegnamento è nel dolore, nella sofferenza e che giustizia vuole che gli uomini soffrano perché apprendano, ciò che viene usualmente sintetizzato nella formula pazze imatos, ecco, cioè soffrendo si impara nell'apprendimento e tramite il dolore. L'immaginario greco non dice semplicemente la cosa di per sé banale che quando uno si fa male capisce, quando ti bruci capisci che il fuoco brucia e che non devi metterla a mano la prossima volta. Certo, c'è anche questa componente immediata, ma nell'apprendimento tramite il dolore noi apprendiamo la nostra finitudine. Soffrendo apprendiamo che non siamo infiniti, che non siamo onnipotenti e che dunque dobbiamo riconoscere la distanza che, quale che sia il punto sotto il cielo che occupiamo, resta sempre ugualmente distante rispetto al divino. Ecco, l'idea di abbattere la legge, di produrre la deregulation, è una delle grandi cifre della società capitalistica, che deve abbattere l'idea del padre e con essa l'idea della legge. Non per caso il 68 è anche la mise in forma di una società senza padri, è la società che compie un grande parricidio di massa contro la figura del padre. La società senza padri è quella in cui il desiderio occupa lo spazio vacante della legge. Ogni civiltà si sviluppa in termini, se vogliamo dirla, in termini lacaniani, come frutto di un rapporto più o meno equilibrato, a seconda dei casi, tra la legge e il desiderio. Sarebbe distruttivo un nomos, una legge che soffocasse il desiderio, come era l'idea di legge conosciuta nel Novecento, nelle forme totalitarie del despota che incarnava la legge repressiva. Ma sarebbe, ed è ugualmente distruttiva, l'idea di un desiderio che soverchia la legge e ad essa si sostituisce, com'è nella società che ha preso forma dopo il 68, in cui il desiderio rioccupa lo spazio vacante della legge e si erge esso stesso a unica legge. Devi godere, è la legge del desiderio, devi desiderare illimitatamente nella consapevolezza che non vi elegge, che l'unica legge è quella che dice sii ciò che vuoi, desidera illimitatamente, diventa tu stesso oltre uomo a volontà di potenza illimitata. Questa è la civiltà dei consumi che trova le sue espressioni multiformi nelle reclame pubblicitarie del nostro presente, Life is Now, Nietzsche avrebbe detto gaudeamo sigitur, godiamo subito, adesso, illimitatamente, senza differimenti e senza tempi morti. Questa società è per sua essenza teofobica, non può accettare l'idea del Dio, deve conoscere soltanto il...